E' stato lo stesso Barack Obama ad annunciare le dimissioni di Steve Miller, numero uno dell'Internal Revenue Service, l'agenzia dell'entrata americana. La Casa Bianca ha accusato il colpo per il cosiddetto scandalo del fisco e ora deve mostrarsi inflessibile con chi ha sbagliato. La vicenda risale alla campagna elettorale 2012. Alcuni funzionari sarebbero stati così eccessivamente scrupolosi nelle verifiche fiscali su alcuni gruppi conservatori legati ai triparti da mettere in discussione l'indipendenza politica dell'agenzia. Quello che è accaduto è senza scuse. Gli americani sono arrabbiati e io stesso sono molto arrabbiato, ha detto Obama. Non tollererei comportamenti del genere da parte di nessuna delle agenzie dello Stato e meno che mai da parte dell'Internal Revenue Service, dato il potere che ha nella vita di tutti noi. Sarà importante scegliere una nuova dirigenza che possa aiutare a ripristinare la fiducia nell'agenzia. Il ministro della giustizia, Eric Holder, ha confermato che è stata avviata un'inchiesta penale per fare luce sull'accaduto. Si verificherà se i funzionari hanno fornito false dichiarazioni e se è stato violato l'Hatch Act, la legge che proibisce ai dipendenti federali di compiere azioni di partigeneria politica. Grazie.